Qui c'erano dei villaggi, vivevano degli uomini. Una diga li ha traditi. La notte del 9 ottobre una gigantesca frana si è staccata dal monte Toc. 8 milioni di metri cubi di roccia sono precipitati nel bacino idroelettrico del Bayonne. Una gigantesca ondata ha scavalcato allora la diga, ha spazzato via le case, ha sepolto gli uomini. Così si presenta la parte superiore della diga. La strada che correva sul colmo è stata completamente strappata dall'impeto delle acque. Quanta gente ha perduto? 14, due fratelli e 12 nipote. E la nonna. Nel 63 io avevo 12 anni e la notte del 9 ottobre, come tutte le sere, visto che ero bambina e andavo a scuola, andavo a letto presto, adesso è 9 normalmente. Quella sera l'ho sentito arrivare come tutte le altre sere, però subito dopo, dopo neanche 5 minuti che era arrivato, ho sentito un gran tonno, sembrava proprio un temporale. La frana precipitando ha sviluppato un'energia pari a 172 milioni di kilowattora e la massa d'acqua ha provocato uno spostamento d'aria due volte superiore a quello della bomba atomica sganciata su Hiroshima. Per venire giù? Sapevo da 3-4 giorni che avevamo messo fuori i avvisi che qui calavali solo per la montagna però, era pericolo, non per il paese. Forse si sapeva che la montagna stava venendo giù? No, dai giorni scorsi, già da un anno e mezzo che si sapeva dove venne giù quel pezzo che è venuto giù. Poi è venuto giù un'altra frana che... Spero che prima che venisse giù il monte già si sapeva. Sì, John! Grazie a tutti Ha nominato una commissione d'inchiesta I responsabili dovranno pagare Lo vogliono i pochi superstiti Lo chiede il paese Sarà sfruttata l'energia prodotta dal salto di quest'acqua Sono circa 170 metri Acqua che fuoriesce dalla conduttura di bypass Si getta davanti alla diga L'acqua verrà incanalata in condutture interne alla montagna Sarà tutta incanalata e arriverà fino a valle Dove sarà costruita la centralina idroelettrica Non lo so Io sinceramente Io ci vedo tanto marcio attorno Del perché vogliono costruire Medela proprio lì Ancora non ho capito Di chi ci giudica Ognuno potrà dirci adesso il cerchio Vaion Avete venduto la memoria Avete venduto l'acqua Quella non è un'acqua comune Quella è l'acqua del Vaion Aplaudito 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 Grazie a tutti.